Oggi signori, in la schedina, siamo a San Siro, preliminari, Europa League, girone, anzi non girone, andata, quindi andiamo dentro per lo stadio. Eccoci ragazzi, San Siro, dai dai! Vai Gijo! Sarà perché ti infiamo, è un'emozione, che sale piano piano, stringimi forte, e stammi più vicino, e chi lo salta, e svolgo il Juventino! La, 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 la... Dai dai Umba! Suso! Silva! Con il numero dieci! C'è la nobile! E per la prima un'esensione! Suso! Suso! Baducci! Ale! Ale! Ale Milano! Porta lotta! Vincerai! Non ti lasceremo mai! 15 km uh Caesar Assusto! But終於 expect Mettila dentro, mettila dentro! Mettila dentro, mettila dentro! Mettila dentro, mettila dentro! Mettila dentro! Sì, 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 sì Sì, 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 fine primo tempo buon mila dominato via 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 dire no 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 Sì, 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 olini! Sì, 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 Sì! 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 E si vai, Cinelli! Grazie! Applausi! Grazie! Grazie! E' toneli! E' toneli! E' toneli! E' toneli! Sì! Sì! Buona! No! Sì! Sì! No pietà! Sì! Mi chiamo! Mi chiamo! Mi chiamo! Mi chiamo! Mi chiamo! Mi chiamo! Ma che cosa facciamo? No! Sì! Sei palloni! Sei! Quanti mi piace viviamo? Quanti mi piace? Due! Due! Cento! Due mila! Due mila mi piace prossima reaction!